Il villaggio Acace sorge a Caorle Lido-Altanea, in posizioni privilegiata, a soli 200 metri dal mare, e si compone di 80 villette a schiera, disposte su due piani tutto intorno alle piscine centrali, una per bambini e una per adulti. Un ampio solarium circonda le piscine e dona la possibilità di rilassarsi a bordo piscina sui comodi lettini a disposizione dei clienti. Un angolo del villaggio Acace accoglie anche un bar, ristorante e pizzeria, mentre un'altra zona del villaggio è dedicata allo svago dei bambini, attrezzata con altalene, scivoli e giochi. Ogni villetta ha ingresso e piccolo giardino indipendente e dispone di climatizzatore, cassaforte, tv satellitare, asciugacapelli, caffettiere elettrica, frigo a colonna con freezer, il vero comfort anche in vacanza. Disponibili unità con una o due camere da letto, alcune anche con doppi servizi. Tutto il villaggio Acace è arredato con gusto, in modo pratico, funzionale e con colori allegri. Supermercato a soli 200 metri e molti altri negozi ed attività nel centro commerciale a circa 400 metri di distanza. Spiaggia con possibilità di noleggiare ombrelloni e lettini a soli 200 metri.